Il concerto per pianoforte e orchestra è stato registrato a Budapest nel febbraio del 2017 grazie ad un importante sponsor di un'azienda statunitense chiamata Green Art Energy ho avuto a disposizione la Budapest Scoring Symphonic Orchestra che è una grande orchestra di oltre 60 elementi la quale ha approcciato la mia partitura in maniera veramente professionale capendo da subito qual era la mia esigenza in qualità di autore Pur ispirandomi ai grandi compositori del passato ho scelto di contaminare la forma classica con le mie più strette passioni ovvero il linguaggio gezzistico e quello folkloristico del Mediterraneo luogo da cui provengo In questo è stato molto bravo anche il direttore Eliseo Castrinenò che ha interpretato e anche suggerito idee nuove per la stesura della registrazione ecco in sette ore abbiamo realizzato una magnifica incisione della quale sono molto contento grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.